Sicuramente è il fattore principale che mi ha spinto ad affrontare questa nuova esperienza lavorativa e sicuramente la voglia di far bene e potermi esprimere come è fatto finora, nel senso che comunque anche a Vicenza stavamo fatto buone cose, cose meno buone, però credo che quando si cambia si cambia per cercare di migliorarsi. La voglia e l'entusiasmo non mancano e ora iniziamo a lavorare oggi e pian piano iniziamo ad assimilare gli schemi del mister. Come ha detto Gianvito, quando si cambia una squadra a gennaio significa che vogliamo dare il meglio, dobbiamo convincere, Piuttosto io, lui è già affermato, io sono giovane e devo migliorare e impegnarmi in ogni allenamento sempre al massimo e spero di farlo in questi cinque mesi giocando e cercare di migliorare con il mister e tutto lo staff.